Un solo nuovo positivo al coronavirus a Prato e ancora un altro giorno, il quarto consecutivo, senza decessi. Continuano ad arrivare notizie confortanti dal bollettino della regione che fotografa la situazione dell'emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore. Prosegue quindi il trend degli ultimi giorni con la curva dei nuovi contagi praticamente appiattita. Sono così complessivamente 536 tamponi positivi tra Prato e provincia, mentre i decessi restano fermi a 43. Situazione con forti segnali di ottimismo anche nel resto della Toscana, dove sono 38 i nuovi casi di positività conteggiati oggi, risultati dall'analisi di 4.260 tamponi. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale a 9.721. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199, il 43,2% dei casi totali. Si registrano 15 nuovi decessi, 10 uomini e 5 donne con un'età media di 84 anni. Il numero delle vittime sale a 930. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 45 e meno di ieri, e cioè 483, di cui 84 in terapia intensiva. È il punto più basso raggiunto dal 17 marzo per i ricoveri totali e dal 13 marzo per le terapie intensive.